Grazie Elisa, siamo pronti qui. Chiara guadagna il campo di gara. Continuiamo ad avere qualche piccola difficoltà tecnica, speriamo che ci sentiate bene a casa. Sì. Piccola caduta per Chiara che difende il quattordicesimo posto dopo il programma corto. Fortunatamente è una seconda caduta sul triplo. Forza Chiara. Un'altra caduta qui, la terza per Chiara, ancora Francesco. Intenta arrivare alla competizione. Chiara è 14th dopo il programma corto. Chiara. E un altro drop sul complesso di viazio con cartwheel e aereo cartwheel. Ruota a ruota senza, caduta. Chiara deve recuperare la tensione. Bene nella serie verticale all'inizio. E via nei pop. Un po' di recuperazione qui. Con la serie verticale e le pops. Well done on the flat release double illusion. Doppio collancio orizzontale. E nella serie roll orizzontale. Piccola interruzione. Un po' di interruzione in the flat rolls. E una spin triple illusion. Un altro drop, infortunatamente, per Chiara. Un'altra caduta per Chiara, purtroppo, nel giro triplo. Provecciata illusion. Ripreso. Movimento doppio. Un bel movimento. Per concludere l'exercise per Chiara. Great support from the arena for Chiara. But unfortunately, quite a few drops in the areals. Will impact her score. We hope Chiara will be able to maintain her ability to stay in the semifinals. My first novice. All know.